Civil Week 2024, ci troviamo al Parco della Pace a Cinisello Balsamo in compagnia di... Sono Stefania Colucci, sono coordinatrice di un centro di urno del territorio e lavoro per la cooperativa Solaris che gestisce dei centri dell'azienda consortile insieme per il sociale sul territorio di Bresso, Cinisello, Cusano e Cormano. Questo evento della Civil Week si chiama Salute nel Parco, ma abbiamo scoperto che salute non è solo la salute fisica. No, ci siamo ispirati al tema della Civil Week di quest'anno che era la Costituzione siamo noi e con il mio gruppo di lavoro siamo andati a rileggerci un po' gli articoli della Costituzione e abbiamo trovato uno molto aderente al nostro lavoro. Noi lavoriamo con disabilità grave, gravissima. L'articolo 32 parla di salute. La Repubblica ritiene fondamentale il diritto alla salute. La salute si esprime però non solo nel benessere fisico ma anche mentale e sociale. Oltretutto noi ci siamo avvicinati alla Civil Week perché partecipiamo da anni a un patto col comune di Cinisello per i beni comuni e il nostro lavoro con le persone con disabilità del centro di urno è venire proprio in questo parco a abbellirlo, per cui abbiamo pitturato delle panchine e a pulirlo. I ragazzi con degli attrezzi sono molto meticolosi nel tirare su mozziconi, piccole carte quindi noi ci occupiamo di un bene del territorio come cittadini. Grazie mille, buona Civil Week. Ciao, grazie.